Scritto con una bomboletta e ce l'ha scritto noi non ci asteniamo, usando la sigla Asta, c'è i speciali termini. Ecco, io penso che questo debba essere un messaggio che arriva forte e chiaro a tutti i parlamentari e le parlamentari della Repubblica italiana. Io non mi astendo sulla legge del governo Renzi. Abbiamo votato contro il Senato, non siamo morti, lo sapete, siamo l'opposizione, lo sapete, martedì la delega arriva in Commissione Lavoro. Ieri il Presidente della Commissione Lavoro, che destina il contrapasso storico volesse anche lui, il maestro del meccanico, Cesare Magnano, che è il Presidente della Commissione Lavoro, della Camera ci ha garantito che lui tratterà la delega con un provvedimento normale. Ieri sera Renzi in tv ha detto che non discude la fiducia. Quindi è evidente, vorrei che vi fosse chiaro, che qualcuno cerca di far finire tutto prima che i vostri scioperi, le nostre rocchie, che è la manifestazione del 25 ottobre, arrivi. E allora è bene che gli si dica, dalle alue dei parlamentari, che lo dovremmo fare oggi. Ma è bene che lo si sappia, è bene che si prenda un impegno in modo che non si sia ognuno isolato nei posti su cui si fa la battaglia, che se qualcuno pensa di far finire questa vicenda con la fiducia, si sbaglia. Qua inizia la vicenda. Non finisce la vicenda. Non finisce la vicenda. Non finisce la vicenda. Non finisce la vicenda. Perché vedete, quella delega è ampia, è generica, si può fare di tutto. Come direbbero i miei metalmeccanici dominesi da cui vengono un manreva, che il dialetto vuol dire mano libera. E' una mano libera. Posso fare tutto quello che voglio. Poi alcune cose le hanno scritte nel dettaglio. C'è una, un paurizzo secondo me pericolosissima, che hanno aggiunto. E' che proprio è stata scambiata come un elemento di tenuta, perché riguarda il denazionamento. Perché per come è scritto, è stato uno degli emendamenti, di quelli che avevano dovuto accontentare i dissidenti, di quelli che hanno convinto ad alcuni ad astenersi da non fare cadere il governo, o per non metterlo a rischio da soccorso azzurro, che c'era, era pronto, mancavano 25 senatori di forza età, casualmente, al momento che avevano fatto un accordo. Quindi c'è stato, perché chi dà la sirene, quando si ha un patto a Dantareno non ci si fida, si è fatto un accordo. E quel accordo c'è stato anche l'altra notte, nell'Aula del Senato. Beh, sul denazionamento c'è una cosa che poi gli africani ci conosce per dimessi. Perché si dice che il denazionamento deve essere, tener conto dell'esigenza dell'impresa compartivamente, si usa, l'espressione che si usa è il testo della Dero, che sappiamo cosa vuol dire, no? Perché se volevano dire che fossero denazionati, una ristrutturazione, ma anche anche un tipo salario, lo scrivono così. Invece dicono che deve essere comparata l'esigenza dell'impresa e l'esigenza del lavoratore. Poi però si dice anche che il denazionamento può essere derogato da quella norma in un accordo aziendale. Approvato dai sindacati maggiormente rappresentativi sul piano territoriale, traduco, è la proroga dell'articolo 8 di Sacconi che è servito alla FIAT a fare il contratto specifico di lavoro a tutta la contrattazione aziendale sul denazionamento. E la chiave per usare la crisi è ridurre i salari reali, abbattere i salari. La via di sviluppo che questo governo propone al Paese, la via per battere la disoccupazione, è una via che dice abbasseremo i salari, anzi nella crisi li faremo abbassare i lavoratori che verranno messi gli uni contro gli altri. E la fine della libertà di ciò che resta è l'articolo 18. La libertà è ridurre la discriminazione del completamento. Il compagno della Dami che ha parlato prima di me ha usato parole che dobbiamo essere capaci di usare per la solidificazione rispetto a cos'è la scuola, che non è solo la retta. Allora noi abbiamo bisogno di una battaglia, noi la faremo nelle aude parlamentari, ma è molto importante che cresca nel Paese, è molto importante che cresca un apporto di forza del Paese. Perché quella delega è larga e si deve e si può cambiare. E si deve e si può cambiare nel senso che servirebbe. Concludo su questo. Noi nei prossimi giorni chiederemo di essere ricevuti al Presidente della Repubblica, come parlamentari, e non perché quella delega essendo così ampia, ma perché quella delega, essendo così ampia, espone moltissimi ricorsi alla Corte Costituzionale. Cioè genera un effetto esattamente opposto a quello che dice il Presidente. Non dà sicurezza, dà un istante preciso di cosa si mette a disposizione e di chi si vuole quello. Ma in verità si espone a moltissimi precorsi. Quindi vogliamo dire innanzitutto al Presidente della Repubblica. Perché il problema della disoccupazione di questo Paese è molto serio e non si affronta dicendo ai lavoratori dovete svantare il vostro lavoro, dovete cancellare i vostri diritti, dovete arrangiarvi. Perché questi sono gli interventi della delega che il governo ha proposto. Si affronta secondo noi con un intervento straordinario dove il pubblico ritorno occuparsi di accompagnare alla ricerca del lavoro i cittadini che lo perdono. Dove non nasce solo i cinquantenni e non nasce nella peccanità i giovani. Poi pensiamo un vero proprio piano per il lavoro. Un new deal. Pensiamo che si debbano spendere migliori che se questo governo volesse potrebbe trovare come patrimoniale ma se no potrebbe anche sforare il 3%. A 15 miliardi all'anno si creano significativi posti di lavoro. Significative attività si possono determinare da questo punto di vista. Quindi ci sono alternative alla creazione di lavoro. Ci sono proposte per creare lavoro. Ma devono essere proposte in cui la politica, il governo si assume le sue responsabilità. Non usa i miei diritti, le mie libertà, le mie possibilità. Non decide unilateralmente di svalutare il mio lavoro, di determinare la mia insicurezza dalla salute al posto di lavoro. Questa è la partita che io credo sia bella. La partita che va giocata nel lungo periodo. Guai a noi, a cascale della trappola, per cui fatta la fiducia abbiamo risolto tutti. Il premier di questi giorni dice non ci faremo fermare, dobbiamo cambiare questo paese. Ma il premier vi va detto che i cambiamenti non sono da ridere. E se lui invece di battere i pugni in Europa, vi vuole battere i pugni sulla testa dei lavoratori, questo non gli va consentito. Un cambiamento contro il lavoro non va consentito. E credo che ognuno che sta in politica da rappresentare dei cittadini elettoranti da pessime legge elettorali come quelle che ci hanno portato in Parlamento debba essere nei prossimi giorni e nei prossimi giorni. Ho chiamato la propria responsabilità. O stai con il lavoro, o stai con chi dice, come ha detto l'altro giorno, ha finito con te, il ministro Poletti, in aula, facendo passare un brinco giù con la schiena, oppure pensi, come ha detto lui, che le imprese sono circondate dal filo spinato, con un filo spinato da tolto. Il filo spinato di cui parlava il ministro Poletti, siete voi, i vostri diritti, sono i contratti regionali, sono i contratti integrativi. Quello non è filo spinato, quello è il meglio del lavoro e della democrazia in questi giorni. La prima domanda è un giorno, perché le imprese sono i giorni thambi, sono i giorni giovani, i giorni giovani, i giorni giovani, i giorni giovani.